L'upscaling renderà inutile comprare nuove schede video? Intel è destinata a fallire? Che tastiere mi consigli sotto i 100€? Queste e altre domande in questo Q&A speciale di agosto che è una serie che vorrei iniziare a fare perché mi fate tante domande e quindi vorrei insomma avere un luogo in cui risponderle collettivamente. Per il bene di tutti, ad ogni modo, like, commenti e iscrizioni sono sempre molto graditi da parte vostra. Fatemi sapere altre domande giù nei commenti di questo video. Spero di riuscire a farne due episodi. Iniziamo a snocciolare un pochettino le vostre mistiche questioni che avete posto al Mordentech locale. Allora, ce ne sono parecchie in realtà, eh? Iniziamo con quelle un pochettino più istantanee. Gentiluomo mi richiede, a che gioco stai giocando in questo periodo? Come penso l'80% dell'umanità? In questo momento sto intraprendendo un'avventura che consiste nell'imparare sempre nuovi nomi di divinità, locali, estere, cose del genere, per poi poterli calare nel momento in cui muoio nel DLC di Elden Ring, specialmente con il boss finale, no spoiler. Gioco molto emozionante, ho tipo 170 ore in un mese, ci sto giocando veramente tanto. Però devo essere onesto, si vuole fare odiare. Ci sono dei boss che mi hanno fatto bestemmiare l'anima. Ma per fortuna esiste la Mimic Tier. Cis totale. Voi a che state giocando? Fatemelo sapere giù nei commenti. Farai una classifica delle migliori postazioni di CLVP? Commento le vostre postazioni? Potrebbe essere un'idea. Diciamo però che effettivamente per chi ha seguito l'intera serie, sarebbe una cosa magari un pochettino più ripetitiva, nel senso che già hanno avuto modo di vedere le caratteristiche uniche di queste postazioni, di questi setup o anche semplicemente delle build che avete proposto. Quindi di per sé verrebbe un episodio su cui magari potrei fare un re-commentary, cioè tipo una re-re-reaction delle build e dirvi quelle che secondo me sono le migliori in Italia. Però diciamo qualcosa che si potrebbe fare, ma secondo me bisogna farla in maniera un po' più elaborata, ecco, renderla un po' più carina. Che tastiera mi consigli sotto i 100 euro? Allora, effettivamente da un po' che non aggiorniamo la guida sul sito a riguardo, i miei consigli in questo momento sono su un brand in particolare. Come al solito io vi straconsiglio di guardare la linea ACR di ACCO, perché sono delle tastiere particolarmente economiche, ma che secondo me sono molto invitanti per la maggior parte del pubblico, sono già disponibili in Europa, non pagate la dogana. Personalmente ritengo la loro linea ACR, ma anche altre che potete trovare, decisamente molto interessante, anche per il vasto numero di formati e di possibilità di combinazioni. Se no potete provare a assemblarvi qualcosa, diciamo che 100 euro per un barebone dovete impegnarvi un pochettino a trovarlo, più che altro con Switch e Keycaps, su cui magari dovrete lesinare un pochettino. Se no, vi ricordo che è sempre attivo il codice mtt5 su core.store per poter approfittare appunto del 5% di sconto, fare un favore a un grande artigiano e commerciante italiano che è Core, il mio patatino e comprare Switch da lui. Anche tappetini, altre cose, cavi, quello che volete. Però ha una bella selezione di roba, quindi ve lo raccomando. I videogiochi sono arte? Madonna ragazzi, ma che domande profonde! Allora, questa è una domanda che richiederebbe 1, 2, 3, 200 mila video, perché secondo me il concetto d'arte è una cosa molto molto complessa da definire, però dopo proprio aver giocato al Den Ring, io ritengo che ormai sia maturo il tempo in cui si può considerare quella videoludica arte. Già lo era anni fa, già lo era anche 20 anni fa, anche i primi Spyro erano arte ragazzi, perché diciamocelo chiaro, ci sono degli artisti dietro, artisti anche nel codice, artisti nel mettere insieme dei team, artisti anche quelli che gli portano il caffè per tenerli elaborati, raga. La sviluppo dei giochi è arte, punto. Per me chiunque sviluppi un videogioco o ne partecipi è un artista, punto. Ma perché raga, diciamocelo, l'arte che cos'è? Qualsiasi cosa sviluppata dall'ingegno umano, cioè anche l'ingegneria è arte, anche i ponti sono arte, qualsiasi cosa è arte. E questo non per sminuire i videogiochi dicendo vabbè tutto è arte, quindi anche i videogiochi lo sono. Però oggettivamente parlando è una domanda un po' superflua secondo me ormai. È chiaro che i videogiochi siano arte. Guardate il Den Ring. Se non vi vengono i brividi la prima volta che uscite dal tempio e vedete l'ingrave, che è pure una delle zone, penso, più brutte del gioco, c'è qualcosa che non va in voi. Cioè, è arte, è arte, è arte, è arte, assolutamente. Ci sono tanti giochi che sono arte. È arte anche Call of Duty, a suo modo. Semplicemente è un'arte commerciale, è una cosa diversa. Potresti portare il Lee & Lee O'11 Vision? Allora, ragazzi, per quanto riguarda case, pc o cose del genere, diciamo che la situazione è che ho radunato un gran numero di brand che mi mandano i loro prodotti e io provo a recensirli, specialmente quelli che secondo me sono validi, in maniera da darvi delle opinioni di mercato il più vaste possibili. Avete visto anche il The Thermaltake 300, che secondo me è un prodotto che nessun altro in Italia si degnerebbe di recensire. È molto, molto speciale come case, anche con i suoi difetti. Quindi sì, a me piacerebbe assolutamente fare l'O'11 Vision, purtroppo per quel tipo di case sono un pochettino bloccato, perché? Perché il Lee & Lee ha dei sample veramente limitatissimi per l'Europa. Mi hanno mandato l'O'11 Dynamic XL, stiamo collaborando adesso, dopo l'estate vi porto una nuova build, quella in collaborazione con Dan, l'M-A3 mi sembra, e onestamente ci sono tante possibilità, però comunque fare build, ragazzi, richiede tanto tempo e ovviamente anche di reperire i prodotti. Non posso comprarmi a ruota 3, 4, 5, 6 mila euro di case, poi anche occupano spazio. Devo essere un pochettino morigerato, però se me li mandano, molto volentieri, io vi faccio una build la settimana stessa in cui arrivano, totale. Com'era il mio primo PC? Allora, vi vorrei parlare non del mio primo PC, nel senso quello del 2000-2001, che in cui giocavo a Diablo assieme a mio fratello, io più che altro morivo di paura, mio fratello giocava, ma magari il primo PC che io abbia assemblato, cioè quello dentro l'NZXT Phantom 410, un case molto molto particolare, non so se ci sono video materiale di questo case che ho, in caso li reperirò. Allora, è stato un PC molto particolare, un PC di mezzo, ovviamente al tempo i brand si sbizzarrivano con i colori, quindi questo Phantom 410 di NZXT, uno dei loro primi case, io ce l'avevo in colorazione arancione-nera, pagato tipo 140 euro, che per il tempo era assurdo per un case, e bello, bello. Grandi bei ricordi, non mi ricordo nemmeno la build che ci fosse dentro, forse un 4460, e una 760, una roba del genere, però devo essere onesto, è stato un bel periodo, molto divertente. L'upscaling renderà inutile comprare nuove schede video? Questa è una domanda molto interessante, nel senso che, soprattutto nell'ultimo periodo, grazie anche a tecnologie di terze parti, come per esempio Lossless Scaling, di cui assolutamente vi porterò un contenuto quando torniamo dalle ferie, devo essere onesto, c'è tanta carne al fuoco. Soprattutto schede più vecchie hanno trovato tanto supporto in tecnologie come l'FSR, come l'Oxess di Intel, il nome più brutto del mondo, e poi in tecnologie di terza parte, appunto, come dicevo, appunto, per esempio NIS, o le tecnologie secondarie di AMD, o anche il Lossless Scaling, come dicevo. Il punto è questo, da una parte l'FSR è una tecnologia di beneficio, nel senso che viene implementato anche su giochi che prima non ne godevano, l'FSR, soprattutto con tecnologie parallele come la FMF, sono largamente implementabili, e implementate su tanti giochi lato driver, cosa che permette assolutamente di avere moltissimi titoli che recuperino FPS grazie a queste cose. Però dall'altro lato c'è da dire che effettivamente un po' il DLSS, abbiamo capito, soprattutto sta diventando una scusa per gli sviluppatori per ottimizzare meno i propri giochi, tanto poi c'è l'upscaling che ti fa recuperare il possibile, tant'è che ormai upscaling e retracing vengono utilizzati in coppia, nei test anche per le specifiche tecniche ufficiali dei titoli, e questo è un peccato, diciamocelo, perché da un lato non incoraggia gli sviluppatori a fare di meglio, li incoraggia a essere pigri e a sfornare i giochi più velocemente possibili per massimizzare la revenue. Cosa che va benissimo perché sono sempre aziende, però come dicevamo prima i videogiochi sono arte, dovrebbero esserlo anche dal punto di vista tecnico, del codice, dell'ottimizzazione di queste cose, perché sono lavori artistici, lavori intellettuali, lavori di ingegno. Quindi l'upscaling secondo me nei prossimi anni sarà una cosa sempre più presente, fino a che non ne potremo proprio più fare a meno. Non sto parlando tanto della frame generation, quella rimane ancora una tecnologia un pochettino marginale, ma l'upscaling io lo uso ovunque ci sia, assolutamente sì, recupero FPS e aiuta tante schede ad accedere a risoluzioni superiori, ma al tempo stesso altre schede a recuperare quella che è la loro risoluzione di riferimento, con meno fatica a mantenere un po' più lunga la loro vita. Quindi sì, l'upscaling rende inutile comprare nuove schede video? No, perché comunque tu compri una scheda che performa X, e con l'upscaling mantieni quell'X nel tempo. Questo è il concetto dell'upscaling effettivamente. Cioè, se la tua scheda è da 4K e tu vuoi mantenere quel 4K, grazie all'upscaling, anche andando avanti con il tempo e con il peso di giochi che incrementa, potrai farlo, assolutamente. Se invece vedi l'upscaling come qualcosa per accedere a tecnologie superiori, comunque avrai possibilità di tornare leggermente indietro e goderti comunque i titoli. Ci vediamo alla Milan Games Week, a Luca Comics. Allora, la Games Week sì, sono otto anni di fila che la faccio, e non mi stanca mai, mi piace tanto la Games Week. Ci vado anche per vedere un po' di colleghi che normalmente non vedrei. Luca Comics, non lo so. È molto complesso il Luca, raga, diciamocelo. Cioè, è una fiera che mi piace molto, ma al tempo stesso mi piacerebbe non farla come Morden Tech, però al tempo stesso i costi sono veramente elevati, quindi farla come Morden Tech mi aiuterebbe. Ah, il conflitto del lavoro contro la spesa personale, eh. Che mondo magico. Ad ogni modo, in Milan Games Week, sono sicuro, vediamo per il Luca. Oh, come vedi la situazione di Intel? La situazione di Intel è un casino, ragazzi, è un casino oggettivamente. Come dicevo nell'ultimo MTN, abbiamo una situazione in cui hanno poche possibilità di rifarsi un nome nel breve termine, sicuramente ne usciranno danneggiati in termini di nomea a lunghissimo termine per questo. Io penso che questo qui sarà un danno concettuale come AMD scalda. Quanti anni ci sono voluti perché AMD si togliesse la nomea dei Phenom, dei vari bulldozer e cose così, che scaldavano? Oggettivamente parlando, ci è voluto tantissimo. Oppure semplicemente anche delle schede video, mi ricordo forse era Haiti o Fiji, una delle due, le 200 e le 300 scaldavano abbastanza. Insomma, questo è stato un brutto colpo per Intel e chiaramente non ne usciranno bene. Secondo me stanno però reagendo bene, nel senso hanno perso tanto nel mercato azionario, questo sicuramente, questo lo stanno facendo un po' tutte le aziende, però al tempo stesso stanno rispondendo in termini legali abbastanza bene, nel senso hanno allungato la garanzia di Raptor Lake di due anni e questo è molto positivo e sembra che appunto siano intenzionati a risolvere la cosa una volta per tutte con gli aggiornamenti del microcodice. L'avessero fatto due mesi fa? Non si sarebbe lamentato nessuno, ecco. Fossero stati un po' più veloci, reattivi sull'argomento. A tal proposito mi chiedono anche, preferisci Nvidia, Intel o AMD? Allora, no, nessuno. Cioè nel senso io preferisco la scheda che mi garantisca le performance migliori per il qualità prezzo o per le performance assolute che mi servono nel contesto di utilizzo. Nel senso, se voglio fare il 1440p 144Hz e la combo migliore è il 7800X3D con la 4070 Super, per me quella è la combo migliore ed è quella che preferisco. Qualora AMD arrivi e mi dica che la 7900GRE per il mio contesto di utilizzo è meglio attraverso i test di terze parti, beh ragazzi, quella sarà la mia scelta. Non preferisco niente. Tolto che non preferisco che i miei processori crashino o abbiano problemi di ossidazione, ma quello è un altro discorso e quindi questo mi impedisce di amare o apprezzare Intel 13000 e 14000 in questa generazione, almeno in questo momento, prima del rilascio del microcodice. Per il resto, cioè, è chiaro che il 7800X3D sia un processore che io abbia lodato abbastanza, da farvi capire, spero, che insomma sia un ottimo prodotto, però al tempo stesso non è una questione di preferenze, è solo una questione di dati. Oggettivamente c'è qualcosa che è meglio di altro e va proclamato vincitore. Poi ognuno ha i propri contesti di utilizzo, cioè AMD va meglio per certe cose, c'è che Nvidia o Intel vanno meglio per altri. Siccome alcuni di voi me l'hanno chiesto, e secondo me è giusto dirlo, questo è un Lego prodotto da AMD. È un Lego ufficiale, ma non esiste in commercio, nel senso che l'hanno fatto solo per influencer e stampa. In Italia penso di avercelo solo io, è la rappresentazione gigante di un Epic 904, 9400, scusate, come serie. È veramente, veramente carino, oltretutto è retroilluminato da questa box. Il concetto è mostrare la realtà di un Epic 9004. Questo è un CCD, questo è un CCX, sono 24 core, veramente adorabile. Questa è la parte di input output, sono 96 core totali, e questo è appunto uno degli Epic di fascia media. Molto carino, davvero adorabile. A voi piace? Fatemelo sapere. Ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie di video giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, vi state su More Than Tech. Ciao, ciao!